Guardate chi è venuto a fare la partecipazione speciale oggi nelle nostre custom, signori! Sir Zaini, il Sir Osmoka, signor, non ci posso credere, veramente! Gentilissimi, ragazzi, dai! Gigi, mi hanno preso da dietro, però, eh, mi hanno ucciso da dietro, io voglio uno e uno! Dai, lo sapevo che eravate voi, siete dei pezzi di me! Beh, 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 fermi tutti! Gentilissimi, mi sembra un po' eccessivo! Ciao ragazzi, sono Zaini, nel video di oggi vi porto un video veramente bellissimo, dove insieme a Luca siamo andati a stream sniperare un paio di persone! Leopollo e Gigi, e in tutti i due i casi, si sono arrabbiati! Detto questo, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, arriviamo a 5.000 mi piace, se volete altri video di questo genere, quindi mi raccomando, controllate di aver messo il like, perché da telefono il like non si prende subito, quindi mi raccomando, ricliccatelo più volte! Iscrivetevi al canale, e infine, non dimenticatevi di supportarmi usando il codice creatore ZNSG! Ora, portatevi comodi, e... Buona visione! Fermo! Zitti, zitti, zitti! Non sparare in nessun caso prima della quarta safe caso, non sai qual è la quinta safe, lo dico sempre in live, se un tuo avversario ti spara e dimostra chiaramente la voglia di fightare, ha il diritto di rispondere! Se mi spara, io sparo! Dopo quello, prima volta sarà bannato! Caso ci sia lo storm, surge o non ci sarà mai, si può picchiare! Si può picchiare? O sia... O piccare! Ah, piccare, piccare, piccare! Picchiare! Da quando hai superato la soglia! Non vocaliare, fare fight da vicino durante il surge, non provocare gli avversari, buildare davanti, bloccare, non rubare il loot degli avversari, se lui è il drop di chi è arrivato primo, quindi non si può sparare prima della 50! Allora, sai cosa? Ci mettiamo... Dove andiamo? Non hai capito? Noi due, adesso Lucas, busciamo, arriviamo insieme a... Non possiamo busciare! No, non si può fightare, giusto? No, fino alla quinta! Ok! Ci boxiamo vicino a lui, due talos si entrano dentro! Leo! Tu non sai cosa ti sa per succedere! Allora, il challenge della Ferrari! Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Non lo so, sono so forte! È inteleso di me! Sto cercando Leo! Io sto cercando anch'io Leo! È dall'altra parte della mappa! Hai lì, in mezzo alle build, ho visto, eh! Quattro secondi! Leo! Così vicino, ma così lontano! Tranquillo, Leo! Leo, ti vengo a prendere! Capcaddle! Ma teamiamo allo star se dovessero fightarci! Sì, si aspetta che... No, 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 fermo, fermo! No, non mi deve contestare! Ma se parte solo il giro, c'è il cecchino! Posso cecchinarne uno in testa? Ah! Oh, ship ship hop! E sei te? No, no, no! Sì, sì, sono io! Venti white town in aria! L'ho visto, l'ho visto! Che poi, tra l'altro, se lui vede il taro, se poi vede il sparo a me... Che c***o tu hai? No, fermo, fermo, stai fermo! Aspettiamo le regole, perché se no ci badano! No, ma deve essere una sorpresa per lui, perché se no ci legge in chat! Dove essere una sorpresa! Ma perché stiamo giocando, tipo, insieme? Lucas, girati! Oh, pericoloso, pericoloso, pericoloso! Col pump in mano! Molto pericoloso! Mmm, due talos così! Skin molto, comunque, classica! Mi hai intanto, mi hai intanto! No, fermo! Quello sopra! È sicuro? Sì! Ok, guarda, non importa in chi è... No! Smoka! Non so se... Non so... Aspetta, non so se ti ha visto in chat, mi sa di no! Bello sto pompa! Lucas, io ti pingo, dove si trova? È qua! Sarà, siamo contro, è vero! Quando ti confusi! Quando ti confusi! Stavo aspettando il ping! Siamo, quando ti confusi, andiamo! Beh, eh... No, non gli ho rifatto la macchina! Non c'è chi? No, no, no! Ho di sapere! Arrivo, arrivo! Ah, ma lì dentro, dentro! Purtroppo, Leo, questo, ti dico, è da bandare! È un po' scorretto come ragazzo! Io ti chiedo scusa! Io ti chiedo scusa! Io ti chiedo scusa, Leo! È stato un po' scorretto il suo ragazzo! No, no, se lo meritava! Uno di nome Smocca mi ha ucciso, ha detto uno in chat! Dov'è, Leo? Stiamo arrivando, Leopollo! È sul ponte, Lucas! Dove? Sul ponte, dove sei? Non ti vedo! Arrivo, arrivo! Eh, sto andando al cannone io! Ma andiamo da lui, andiamo da lui! Leopollo è sul ponte, è sul ponte! Si sta avvicinando, si sta avvicinando! Sì, 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 sì! Fermo, 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 fermo! Vieni qua, vieni qua! Dobbiamo essere anti-sgam, vieni qua! Nel cespuglio! Eh, ma l'hai detto Smocca, cosa ti ha fatto? E ci Smocca un grande? No, Smocca è un grande! Eh, vecchio, è nel cannone sopra! Leo? Sto andando verso Pinnacoli! Ok, andiamo a Pinnacoli, andiamo a Pinnacoli, sono nell'acqua! Leopollo! Dove sei? Ma ti devi muovere, Zane! Sono nell'acqua! Ah, lo vedo, è il cannone che vola, eccolo lì! Sì, 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 io lo sto seguendo! Ok, ok, ok! Ma sei tu che stai salendo sul cannone? Sì! Eccoci via lui! Mi vedi? Sono io, questo qua, che sta spicconando l'aria! Davanti a te, davanti a te, davanti a te! Ma non vedo, non vedo! Ah, spara! Non posso, non posso, non posso, non posso, non posso! Vieni, 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 vieni! È qua, è questo qui! È lui? Sì! Oh! Ma è scivolata! Ma spesso, spesso! Tre! No, 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 spesso! Gli do i mini, gli do i mini! Non ha capito cosa per succedere, vero? Eh, mi sa che non ha capito! No, ha capito! Tre! No, no, aspetta, aspetta, aspetta! Seguiamo! È terrorizzato! È terrorizzato! È terrorizzato! Come! Balla, balla, balla insieme! Non ce l'ha quel ballo! Qualissime a me, qualissime a me! Non ce l'ha quel ballo, non ce l'ha quel ballo! Fate, fate, che si sta guardando, fermo, ti uccido! Così capisce che è l'altro! Lucas è il migliore! Lucas è il migliore e smoke, è smoke acquitato! Questo vuole fightare? No, le banna! Come si banna? Lucas è il migliore senza funzionare niente! Hai bannato, Leo? Luca, sì! Luca, sì! No! Non può essere, chat! No! Ah! No! Sono zen e smoke, aspetta! Ah, seconda! Sono zen e smoke, vecchio, non ci posso credere! Guarda che ci sono, chat! Ti scrivo che ci ha beccati? Ti scrivo, ops! Non ci credo, chat! Ops, guarda lui! E, leopolo! Bomba mia! Bomba mia! Non ci posso credere, vecchio, non ci posso credere! Trovata, mamma mia! Ha spaccato il culo, vecchio! Non ci posso credere! Oh, l'ha preso a sorridere, lui! Sapevo che era strano! No, fate mettere il bipettino e il sior zen qua, un attimino! Addirittura! L'uccino lo strepside per vi mette il bip! Questo, ragazzi, quando sei un youtuber! Stato a registrare un video, per caso! Per caso! Non mi immaginare, sincero! Dai, Gigi, ragazzi! Sato che chiedo, Gigi Bell Fight! Gigi, Bell Fight! Eh, no, però un giorno, un giorno, un giorno dovrei chiedere l'1v1, almeno, no? Perché questo è stato un po', un po', un po' codardo, questo, eh! Mi avete sentito dietro, ragazzi! Questo sound potrebbe essere... Questo sound ha del potenziale! È ragione! È ragione! 10.000 mi piace, ragazzi, sfidiamo a Leopollo, 1v1! Ma ci hanno rifatto Smoke and Zane, esatto! Sono normale, sono normale, sì, ovvio, ovvio! È una custom! Spazio d'elefante! Aspetta, non so scrivere elefante! Anch'io! No, infatti, ho scritto male! Raga, mi raccomando! Aspetta che sapete... Tutti a pinnacoli! Tutti a pinnacoli! Ma che nessuno salga sul dirigibile, per favore, fate i bravi! Andiamo sul dirigibile, andiamo sul dirigibile! Dai, andiamo sul dirigibile! Gigi, ti prego, ti chiedo scusa! Non è qualcuno troll di Gondor... Nessuno trollerà! Nessuno trollerà! Mi sa che siamo gli unici... Non siamo gli unici! No, infatti, guarda qua che maiale è quello! No, no, siamo gli unici! Sì, sì, sì! Oh, Jack! Ok, Gigi è sopra! Dove è Gigi? È sopra, sopra, sopra! Posso già killarlo, eh? Ma fermo, fermo, fermo! Aspetta che scenda io! Ma mi ha bombato! Come? Mi ha bombato! Ah! Gigi! Mi ha bombato! Dov'è, dov'è? Dal cannone, dal cannone! Dal cannone dei pinacoli che guarda verso Grisi! Quel cannone lì! Eccolo il d'altro Thanos! Ma dove sono tutti? Sì, sì, sì! Sta andando dentro! E niente, va bene! Vai, vai, ti prego! L'hai bombato! Oddio, ho ucciso! Va bene! Ma? Ciao, Gigi! Ma voi... Ma voi no, no, no! Ma ci serialano! Dai, lo sapevo che eravate voi! Siete dei pezzi di merda! Siete dei pezzi di merda! Eh, ma infatti... Siete dei pezzi di merda! Scusa! L'ho capito da Lucas, è il migliore che era Zain! Per il contenuto su... Ma non lo volevo dire! Su YouTube! Siete dei pezzi di merda! Ma che per il contenuto? Scusa! Che per il contenuto? Che per il contenuto? Che per il contenuto? Che per il contenuto? Ci sta odiando! Tanto te lo taglio, Zain! Lo taglio, sì, lo taglio! Mi stavo per dare dei bimbi in me... No! Ti segnalo... Alla... V... V... F... Come si scrive? Ti giuro, se... Se alla prossima partita non trovo le tende, ti blocco, penso V... Ok! Daniel, ti blocco V... La password! Ti aiuto io! Blocco V... E non mi devi aiutare! Devo soltanto bombardare Pinnacoli! Che mi devi aiutare! Ah! Evita Z... Regà, come prima, atterrate a Pinnacoli, ma non venite surdirigibile! Non fate come i bimbi clown! Dove è la password? Bottiglia, con quanti T è? Soprattutto Zain, guarda il mod che cosa gli ha scritto! Vado sopra, ma non faccio nulla, lo guardo! Esatto, vai sopra... Eh, bravo, esatto! Vai, vai! Ho fatto Godland! Tranquillo, Gigi! Non faccio nulla! Tranquillo, Gigi! Non ti agitare! Non ti agitare! No, no, no! No, 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 no! Testa di c***o! No, no, no! Va bene, Zain, va bene! L'ha detto va bene! E niente, ragazzi, il video finisce qua! Mi raccomando, lasciate un bel mi piace! Iscrivetevi al canale! Dovremo arrivare a 5.000 like! Se volete, altri video di questo genere! Quindi, mi raccomando, spolliciate! Dai, c***o! Oddio, sta a fermare! Sta a fermare giù! Niente! Questa che fa soltanto scendere! Li saliamo! Non sto pelando, ragazzi! Giuro che è tutto fatto apposta! Sì! Sì! Ti crediamo, Gigi! Si vede! Si vede! È tutto molto spontaneo! Siccome muore dal bot! Ma guarda che il bot lo sta per bombare! No! L'ha bombato! Ma non fanno un c***o, queste bombe! Ah, ma sta bombardando le persone! Ma è pazzo? Ma che fa? Fa bombardare le persone, signor Gigi!